Oggi è mercoledì 21 giugno, le notizie di questa mattina, seduta a consigliare durata 6 ore e mezza, ieri sera a Sciacca, dedicata in gran parte al dibattito sul carnevale estivo e di alcune settimane fa. Ci sono state polemiche tra maggioranza e opposizione sullo sfondo della discussione, soprattutto i costi affrontati dal Comune per organizzare l'evento insieme alla società Meridiene Aventi e che si è giudicata uno specifico appalto nel corso dell'animata seduta che a volte ha assunto toni piuttosto accesi. Si è parlato soprattutto delle spese come detto affrontate dall'ente. Si è poi appreso che l'incasso netto nella vendita dei biglietti dell'edizione primaverile è stato di 217 mila euro, di cui il 9,15% verrà versato al Comune di Sciacca, ovvero 19.970 euro. Sono stati venduti 11.097 abbonamenti per 4 giorni per residenti, 1.283 per 2 giorni sempre per residenti, 9.178 ingressi giornalieri complessivi sempre per residenti, 15.698 ingressi giornalieri non residenti, 596 abbonamenti non residenti per due giorni, 222 abbonamenti per 4 giorni per non residenti. Il Sindaco ha riferito che la Meridiana non ha ancora versato le royalties al Comune ed ha tempo fino a 30 giorni per versare il saldo ai carristi. Si svolgerà oggi intanto nel pomeriggio la cerimonia di apertura delle buste della giuria chiamata a valutare i carri allegorici partecipanti all'edizione 2023 del Carnevale di Sciacca. Si è parlato anche di questo ieri sera in Consiglio Comunale con una relazione del segretario generale nella sua veste di dirigente del primo settore e che ha specificato molti particolari legati alla necessità di sostituire due dei componenti della giuria. Polemiche anche su questo aspetto. L'appuntamento di oggi per l'apertura delle buste e la proclamazione dei vincitori è fissato per le ore 17 nella sala Brasco del Palazzo Municipale. Troppe strade comunali in stato di dissesto e quanto rilevano con una nota il coordinatore del gruppo consigliare della democrazia cristiana di Sciacca Giuseppe Emiliotti e i consiglieri comunali. Incalzano l'amministrazione comunale e rilevano come le tante arterie del centro storico della periferia siano piene di buchi e di avvallamenti che vengono solamente transennati e costituiscono sempre una situazione di pericolo per chi vi transita. Si è rappresentato stasera alle 19 presso l'atrio superiore del Palazzo Municipale di Sciacca il libro Poetare in Siciliano, edito da Unitre e frutto di un corso di scrittura poetica dialettale siciliana in sé lezioni tenuto da Pippo Graffeo. L'invito del docente di poesia è stato accolto con particolare entusiasmo da soci e allievi di Unitre che non pensavano di poter esprimersi anche nel mondo dei versi. Il volume si compone di 50 poesie scritte da 30 autori. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buona mattinata e più tardi ci risentiamo per ulteriori notizie della giornata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero Whatsapp.